La riorganizzazione della macchina amministrativa della regione è entrata nel vivo, lo afferma l'assessore al personale Guido Quintino Liris, che a margine della seduta della giunta regionale nella quale è stata approvata la delibera con cui sono stati attribuiti nuovi incarichi dirigenziali, ha fatto il punto sulla riorganizzazione generale dell'apparato amministrativo. Inizialmente, dice Liris, abbiamo lavorato sull'organizzazione interna, in breve tempo passeremo a valutare gli esterni, facendo partire anche tutte le procedure concorsuali che, anche grazie al lavoro certosino di sistemazione dei conti dell'ente, possono ora essere sbloccate. Liris poi ha aggiunto che il piano è frutto di mesi di lavoro e di una concertazione costante e proficua con il presidente Marco Marsiglio, assessori, capi dipartimento e sindacati.